Bentornati e buona domenica e bentornato campionato, questa sera alle 18 benevento Milan, sono contento perché torniamo a parlare di calcio giocato che è la cosa che ci piace di più, naturalmente sono contento perché si torna ad avere l'attesa per il nostro Milan e sono contento perché giochiamo dopo l'Inter quindi sappiamo già che si sono portati a casa i tre punti col crotone e noi dobbiamo fare altrettanto questa sera. Oggi il video sarà un video un po' particolare nel senso che voglio farvi un piccolo inciso riguardo al mercato e poi voglio presentarvi la partita di questa sera in modo un po' diverso, in modo un po' alternativo attraverso alcune statistiche e alcune curiosità che ho trovato e che ci consentono un po' di approfondire il tema di Benevento Milan. Voglio anche dirvi che questa sera al termine della partita, dunque 18-19.30, insomma fra le 19.45 e le 20 farò il post partita e lo farò in live, questa sera in diretta, quindi potremo parlare il tempo necessario per analizzare insieme la partita del Milan. Detto questo, dicevo, una notazione, un inciso sul mercato. Siccome partirà tra poche ore la sessione invernale di rafforzamento, io sono dell'idea che avremo delle sorprese. Nel senso che avete visto in questi giorni com'è la narrazione degli eventi. Il Milan su Simacan già dalla scorsa estate, trovato l'accordo con il giocatore, manca l'accordo del Tolosa. Poi arriva qualcuno, come sempre, a inserirsi, il Napoli, interessato giocatore, manca il Chelsea, eccetera. Poi l'accordo c'è ma lo Strasburgo non accetta l'offerta del Milan. Insomma, secondo me, quando ci sono tutte queste cose che vanno a raccontare un qualcosa, ecco, io lì ho la sensazione che ci sia un po' puzza di bruciato, cioè che ci sia un po' puzza di falsa notizia, vuoi perché magari qualcuno ha avuto un'indiscrezione, vuoi perché l'agente del giocatore vuole fare un certo tipo di gioco. Bene, mi sembra per alcuni versi la stessa cosa che abbiamo visto con Fofana, che poi è finito all'Eister, quando a un certo punto sembrava che fossimo lì già per prenderlo. Ecco, quindi direi di fare molta attenzione, perché anche il nome di Conè, del Tolosa, nomi sicuramente diversi dai soliti, nel senso che sono probabilmente queste sì indiscrezioni vere, però io credo che, conoscendo la nostra dirigenza e conoscendo loro essere totalmente impermeabili, chi arriverà sarà un nome che, non dico, non l'abbiamo mai sentito, ma quasi. Con l'idea che mi sono fatto che il Milan voglia andare a intervenire sulla difesa e voglia andare a intervenire anche nel reparto di centrocampo, se ci sarà la possibilità. Questa almeno è la mia sensazione per quel che riguarda la sessione di mercato invernale, che attendiamo per capire anche un po' quali sono le intenzioni rispetto al resto della stagione. E comunque ci sarà bisogno di alcuni innesti, perché è vero che non si deve andare a toccare ciò che va bene, però c'è bisogno di trovare soluzioni alternative, visto che poi ci sarà anche l'Europa League e io, sinceramente, visto un po' la concorrenza delle squadre, mi sento di dire che potremo fare bella figura anche lì, se decidiamo che quello è un obiettivo, considerato che poi dobbiamo arrivare a quel punto anche della stagione, già con un discreto bottino di punti in campionato, per non dico essere tranquilli, ma insomma essere abbastanza sicuri di poter aver preso la strada per il ritorno in Champions League. Ieri tra l'altro si è tornato a fare anche il nome di Cardi in proiezione, ma insomma lasciamo perdere tutte queste voci, il dopo Ibra è tutto da capire per noi, speriamo che invece la dirigenza l'abbia già capito. Veniamo alla parita di questa sera. Allora, come vi dicevo, ho trovato alcune cose interessanti della parita di questa sera, ad esempio il fatto che, e beh, naturalmente c'è il fatto di Inzaghi, perché è una gara comunque particolare, al di là del ricordo poco felice che abbiamo della prima panchina di Pippo, la nostra, nella stagione 14-15, fu un'esperienza negativa per lui e anche di sofferenza per lui e anche di sofferenza per noi, perché c'era ancora l'idea che il Milan potesse ritornare ad essere competitivo, ritornare a giocare in Europa, eccetera, poi in realtà la storia ci ha raccontato che le intenzioni della proprietà in quel caso non erano esattamente quelle. Allora, dicevo, statistiche interessanti, il Milan è la squadra che ha segnato più reti di testa, 7, in questo campionato, mentre solo il Crotone ha fatto peggio del Benevento, che ne ha segnato uno solo di testa, quindi magari questa volta la portiamo fuori dal punto di vista delle problematiche sui calci d'angolo, calci di punizione e contro, mentre invece quelli a favore stiamo raggiungendo un buonissimo livello e anche in questo senso il lavoro che si è fatto è un lavoro eccellente, perché sapete quante difficoltà avevamo a segnare dai calci piazzati. Per quel che riguarda il Crotone ci sono due dati, anzi tre dati interessanti, che ci raccontano anche un po' l'andamento della stagione. Intanto nessuna squadra neopromossa, nell'era dei tre punti, ha conquistato almeno 18 punti nelle prime 14 gare e poi retrocessa, quindi il Benevento ha già fatto quello che potrebbe servirgli in prospettiva per rimanere in Serie A e questa è una cosa importante. Il Benevento e il Milan sono le due squadre che rispetto all'ultima annata di Serie A, quindi per il Benevento si fa riferimento al 17-18, sono le due squadre che hanno avuto il maggiore miglioramento nel loro rendimento. Naturalmente per il Benevento non era una cosa difficile, hanno fatto più 18 punti perché non avevano fatto neanche uno all'epoca e il Milan invece rispetto all'anno scorso ha 17 punti in più in classifica. Un'altra cosa interessante sul Benevento è quella relativa al fatto che il miglioramento dei risultati è coinciso, guarda caso, per una squadra che si deve salvare, ma che vale anche per una squadra che vuole vincere il titolo, ne parlavamo nei giorni scorsi, con il miglioramento della fase difensiva. Infatti il Benevento ha subito nelle prime sette partite una media di 2-89 gol, quasi 3 gol a partita, nelle prime sette partite, per poi scendere nelle successive a 0-43, quindi sotto il gol subito a partita. Questo è sicuramente l'indicazione più importante per un Benevento che tra l'altro veniva nelle ultime sei partite, tre vittorie, tre pareggi e una scompita. Quindi veniva, come dicevamo anche ieri, da un ottimo momento di forma. Le ultime sette partite del Benevento hanno visto meno di tre gol a gara. Tra l'altro c'è un'altra cosa che volevo dirvi sul Benevento, il fatto che le ultime tre partite casalinghe hanno tutte visto esattamente due gol totali a partita. Se noi ragioniamo nell'ottica che il Milan fa almeno due gol a partita, giocatevi il 2-0 per il Milan. Naturalmente sto scherzando. Altri dati statistici interessanti per quel che riguarda il Milan. Sappiamo della nostra imbattibilità. È imbattuto da 14 trasferte di Serie A ed è la miglior striscia esterna nostra dal 2004, quindi da un sacco di tempo. Il Benevento ha conquistato con noi il primo storico punto in Serie A, ma lasciamo perdere quella giornata. Siamo l'unica squadra imbattuta, come sapete. Poi sono 16 partite consecutive che segniamo per più di due gol a partita. E questa è una cosa molto importante nell'ottica di superare l'assenza di Ibrahimovic. Abbiamo visto che nonostante quello ce la facciamo lo stesso. Ecco perché, secondo me, anche in ottica mercato, la direzione della dirigenza sembra essere più orientata verso difesa e centrocampo rispetto all'attacco. Questo è un'ultima cosa, un'ultima statistica interessante. Quattro delle ultime cinque vittorie del Milan in trasferta ha visto il risultato finale di 2-1 con il Milan che segna il primo gol. Anche questo potrebbe essere un dato interessante in vista della partita di questa sera. Una partita che, come dicevamo anche ieri, si annuncia abbastanza complicata perché rischiamo davvero di avere di nuovo di fronte un avversario di quelli che si chiudono, un avversario di quelli che non ti lasciano spazio, dei quali anche temere l'offensiva, il contropiede, il ribaltamento di fronte. Il Benevento è sicuramente una squadra interessante da un punto di vista dell'organizzazione. Inzaghi poi, come ci siamo detti, ha sterzato a un certo punto preferendo il rinsaldare i reparti e cercare di fare una buona fase difensiva piuttosto che ostinarsi a giocare un calcio propositivo che può essere affascinante e può essere anche meritevole di lode che però non porta punti. E se non porta punti non resti in Serie A. E se non resti in Serie A hai fallito la stagione. Quindi da questo punto di vista un'ottima idea da parte di Inzaghi il quale sta crescendo come allenatore attraverso un percorso interessante che avrebbe dovuto fare quella volta, cioè quella volta non sarebbe dovuto venire al Milan, o per meglio dire, non avrebbero dovuto dargli la panchina al Milan, avrebbero dovuto cominciare un percorso di un certo tipo per fare una carriera di un certo tipo. Ma per fortuna sua, insomma, non si è bruciato nonostante l'annata negativa al Milan. Forza ragazzi per questa sera, adesso andiamo a vederci l'Inter, vediamo che cosa combina. L'importante naturalmente è cercare di fare una partita di livello, sicuramente il recupero di Chessy a centrocampo sarà importante, anche per dare una mano a Tonali, che tra l'altro con la Lazio è stato il giocatore che ha corso di più, più di tutti, insieme a Krunic, anche perché si doveva, come dire, cercare di aiutarsi e perché non c'era proprio coordinamento nei movimenti. Oggi invece torna a Chessy, Chessy è un uomo che dà anche l'ordine al compagno di reparto e in generale, come ci siamo detti, aiutando sia la fase offensiva che la fase difensiva. Quindi il rientro di Chessy è importantissimo. Le due assenze di Theo e di Saleme Kerr sono però dall'altra faccia della medaglia, due assenze importanti, soprattutto quella di Theo, perché da quella parte Dalot ha fatto meglio paradossalmente a sinistra che a destra quando è stato impiegato. Però chiaramente è un terzino a piede invertito, è un giocatore che non ha ancora i tempi di gioco con gli altri giocatori, con i compagni di squadra, e quindi avrà bisogno di fare più attenzione a cosa succede alle sue spalle rispetto a cosa accade in avanti. Speriamo di non perdere, da un punto di vista degli esterni, quella fase offensiva che è stata spesso determinante per le sorti della nostra squadra. Io comunque sono abbastanza fiducioso, sono consapevole del fatto che sarà una partita difficile, non sarà semplice. Dovremmo cercare di davvero venirne a capo anche con pazienza, con il giusto approccio alla gara, con tutte le cose che vanno fatte quando si affrontano delle squadre che si chiudono e che inevitabilmente possono crearti dei problemi. Comunque, forza ragazzi, ci sentiamo questa sera in live nel post partita.